La settimana europea della mobilità ANAS, Fondazione Campania Welfare insieme a Polizia Stradale e Locale per la sensibilizzazione degli studenti sulla sicurezza stradale si conclude oggi. Difatti nella giornata dedicata si è parlato appunto di sicurezza in strada con particolare attenzione al rispetto del codice della strada. Durante l'evento di sensibilizzazione che è stato appunto organizzato da ANAS e Fondazione Campania Welfare si è mostrata una platea interessatissima composta da numerosi studenti di diverse scuole della decima Municipalità Bagnoli Fuorigrotta di Napoli, oltre che dalle tre scuole internazionali presenti presso la sede della fondazione. All'evento hanno partecipato 3.000 città di 50 paesi e nell'occasione quest'oggi sono intervenuti Maria Patrizia Stasi, presidente della fondazione Campania Welfare, Nicola Montesano, responsabile di ANAS Campania insieme a Carmine San Giovanni, presidente della decima Municipalità del Comune di Napoli, Valentino Marimiello, vicequessore aggiunto della Polizia Stradale di Napoli ed Antonio Muriano, comandante di reparto Gitti Infortunistica Polizia Locale di Napoli. Le parole della presidente Stasi sono le seguenti. La sicurezza stradale è sicuramente una priorità per i nostri adolescenti perché quotidianamente vivono per strada incontrando e affrontando i pericoli e le difficoltà. Siamo davvero lieti di aver ospitato insieme ad ANAS questa manifestazione che ha messo al centro la sicurezza e il benessere di tutti i nostri ragazzi.